Indagini della Procura della Repubblica di Agrigento sulle elezioni comunali a Porta Empedocle dello scorso maggio, vinte dall'attuale sindaco Calogero Firetto con la stragrande maggioranza delle preferenze, 93,31%. In particolare i magistrati stanno indagando sulla candidatura di alcuni consiglieri comunali nelle liste che sostenevano Paolo Ferrara, l'altro candidato a sindaco, che era già stato prima cittadino di Porta Empedocle una decina di anni fa e che ha ottenuto 700 voti su 12.020 diritto al voto, appena il 6,69%. Ciò che ha destato il sospetto negli inquirenti e che li ha portati ad aprire l'inchiesta sarebbe il fatto che alcuni candidati al Consiglio Comunale, pur avendo investito ingenti somme nella campagna elettorale con facsimili, non abbiano preso neanche un voto. Da voci non confermate alcune persone sarebbero già state iscritte nel registro degli indagati.